Ciao ragà, sono Brian e sono qui perché volevo spiegare e chiarire le differenze negli accenti d'inglese perché ce ne sono tanti ovviamente, l'inglese è dappertutto nel mondo e quindi ci sono quattro tipi d'inglese che volevo imitare e quindi, beh, americano non lo devo imitare perché è come parlo davvero però poi farò l'accento inglese, quello di Inghilterra e poi farò l'australiano e per finire ci diverteremo un sacco perché parlerò come un italiano che parla inglese e ovviamente avete accenti buoni, non fraintendermi ma volevo imitare l'accento italiano quando un italiano parla inglese però praticamente farò qualche frase nell'accento poi forse e spero che riuscirete a capire le differenze forse entro la fine del video capirete le differenze negli accenti perché forse adesso non sapete per bene cosa sono queste differenze quindi cominciamo con americano ovvero il vero me, ossia il vero me sono Brian e adesso parlo come Brian davvero so this is my American accent and I just speak normally because this is how I really talk and when I do the English accent you guys should try to hear the difference in the R's so one sentence is like give me some water and I'll say that sentence in British accent so I'll start the British accent right now quindi adesso comincio la cento di Inglaterra che sarebbe così all right well you know it's been a long day and I don't know I just caught the subway back home and now I'm gonna take the lift up to my apartment where I'm gonna eat myself a nice little supper and then I'm gonna put myself in bed and tomorrow morning I think I'll have coffee and sometimes you know my mom doesn't even fucking make me coffee it's like mom if I want coffee make it for me so instead of having coffee I just drink water quindi c'è una differenza grande tra questi spero che l'avete sentito e adesso facciamo il terzo accento che sarebbe australiano e non lo so fare benissimo però ci provo quindi comincio adesso all right welcome down to the south we've got a bunch of alligators crocodiles down here all right we drink fosters the best beer in the damn world and I love to drink water non lo so non so com'è andato però australiani per me sentono così e quindi adesso possiamo fare il divertimento vero sarebbe che sarebbe l'accento di un italiano che parla inglese spero di non spagliarlo però ecco I think that when I speak the English my voice is very good because I I think that the America is a good place and I like to cavolo come si dice eat the food quindi parlate un po' così e per me è divertente sentirlo però ovviamente conosco tanti italiani che parlano benissimo e hanno accenti perfetti beh perfetti no? però quasi sì e quindi adesso abbiamo sentito quattro accenti diversi e il mio preferito è quello inglese perché lo so fare abbastanza bene forse se uno d'Inghilterra guarda questo video non sarà d'accordo col mio accento però ci ho provato e l'accento americano sicuramente non l'ho sbagliato perché ho parlato come parlo davvero e quindi finisco il video parlando in inglese americano so thanks for watching and I'll have another video for you guys in like a week so I hope you liked it and I'll catch you next time bye you guys and